Siamo qui con il direttore della SNAPOLI 3SUD, Gaetano Donofrio, per parlare della situazione relativa alla variante Delta. Com'è la situazione in questo distritto sanitario? La variante Delta nel distritto di Torre del Greco ha visto la presenza di 44 casi inizialmente. Di questi solo 12 sono rimasti attualmente positivi e praticamente una sola persona è stata ospedalizzata. Posso anche dire che tra gli infetti quelli che praticamente hanno avuto scarsi sintomi o nessun sintomo, tolti chiaramente i minori di 16 anni, perché vi sono alcuni minori, inferiori a 16 anni, comunque erano tutti vaccinati. Il punto di svolta è stato che molti avevano avuto tutte e due le dosi, alcuni solo una dose. Per cui quelli che hanno avuto una sintomatologia, seppur lieve, una persona è stata in ospedale qualche giorno ma mai in via di dimissione, avevano avuto comunque una copertura almeno parziale. C'è da preoccuparsi in vista dei prossimi mesi? Si parla che la variante Delta sarà prevalente alla fine di quest'estate? La variante Delta, come si può dire, è l'erede della variante inglese, nel senso che il Covid è un virus ad RNA. I virus RNA, simili a quelli dell'influenza, variano continuamente, perché l'evoluzione stessa del virus, che essendo un virus oggi solo intraumano, cioè che vive solo nell'uomo, deve trovare una forma di adattamento. Potremmo dire in termini generalisti che i virus, come tutti gli esseri viventi, la prima cosa che vogliono fare è vivere. Quindi generalmente anche le varianti che si sviluppano nel tempo devono trovare comunque una forma di convivenza con l'organismo ospite, quindi l'uomo. Per cui varianti ce ne saranno ancora molte. Il vero punto di caduta è che le varie varianti, se troveranno una copertura vaccinale completa di gregge, per essere chiari, potranno anche infettare, ma certamente, ed è il vero indicatore più importante, il tasso di ospedalizzazione, quindi di persone gravi o con sintomi importanti, resterà comunque minimo. D'altronde l'influenza ogni anno determina complicanze per 5-10 mila persone che ahimè muoiono. Oggi, l'anno scorso, il picco del covid ha portato in Italia a quasi 130 mila morti, quindi 13 volte in più di quello che è il picco influenza. Però, se ci vacciniamo, faremo sì che tutti, avendo la memoria immunitaria, ammortizzeremo questo virus. La campagna vaccinale a che punto è? Si può arrivare effettivamente all'immunità di gregge verso la fine dell'estate? Il punto cruciale è che le persone si devono prenotare, perché il dato, diciamo, vero, e purtroppo si è visto non tanto nella nostra ASL, perché noi abbiamo perseguito l'apertura di vari punti vaccinali e noi abbiamo aperto 35 punti vaccinali sul territorio, proprio perché la strategia è stata quella del centro vaccinale di prossimità. Però immagini di altre aziende hanno fatto vedere hub semideserti. Questo è l'elemento preoccupante, il fatto che ancora notevoli quote della popolazione non hanno capito l'importanza della vaccinazione. Come funziona il sequenzionamento di questi campioni, di questi tamponi? Ma è un sequenziamento a campione. Cosa significa? Che tra tutti i campioni positivi che la campagna ogni giorno rileva nei vari centri vengono mandati o al T-Gem o allo zoo profilattico o al cotugno. Lì una quota di questi campioni hanno tramite, si chiama estrattore, la possibilità del sequenziamento genico e verificare se, diciamo, la composizione è una variante delta o meno. Quindi non tutti i campioni positivi della campagna ogni giorno vengono sequenziati, anche perché sarebbe un costo abnorme. Generalmente si fa un campionamento e poi, soprattutto, lì dove ci sono stati dei casi di positivi, i tamponi dei contact tracing, quindi dei collegamenti diretti a chi già è stato riscontrato come positivo durante delta, vengono anch'essi esaminati con l'estrazione.